Amici sportivi di Sesta Reta Ionica, un cordiale saluto dallo stadio regionale di Giarre, tredicesimo appuntamento di campionato, tredicesima giornata di eccellenza Girone B. Giarre, Realaci in campo, due diverse posizioni di classifica, il Realaci per la salvezza, ultimo posto di classifica, il Giarre invece lanciatissimo verso la zona playoff. Andiamo subito a vedere le formazioni al centro del campo, c'è il direttore di gara Salvatore Tessei della sezione di Catania, primo assistente Gianluca Viglialesi, sempre di Catania e sempre di Catania, il secondo assistente Giulio Sorace. E allora formazioni, Giarre con Vincenzo Colonna, Alessandro Curcuruto che è il vice capitano, Francesco Sanfilippo, classe 99, poi il capitano Rosario Patanè, Francesco Tarrico con il 5, con il 6 Roberto Miano, con il 7 Giovanni Caputa con il numero 8 Claudio Lamia, con il numero 9 Antonino Carbonaro con il 10. Alessio Carrabino, classe 2000 con il numero 11, Mattia Leotta in panchina, in solita maglia numero 0 per il secondo portiere, Kevin Romano, poi Marco Spampinato, Jose Spampinato, Piero Marrone, Salvatore Messina, Joaquin Santitto e Daniele Compagno, allenatore e Peppe Mascara. Il Realaci che è riduce da un'importante novità perché c'è stato il cambio tecnico in settimana con l'ingresso di Nicola Malaguarnera, lo ricorderete sicuramente a San Gregorio con la storica promozione in eccellenza da parte della sua squadra. Adesso dopo quasi 4 anni rientra su una panchina, in questo caso però di promozione del Realaci a seguito delle dimissioni, la scorsa settimana dopo la sconfitta con il Catanese a Pio X da parte del tecnico Eugenio Seminario. E allora formazione del Realaci con Antonio Cardillo, poi Cosimo Mammone, Daniele Sorbello, Dario Pataneta, Ancreti Pennisi, Alfio Bisicchia, Enrico Cutuli, Alessandro Scali, Vito Finocchiaro, Daniele Costa e Omar Trammè, in panchina, Bilali Collei, Mumuni, Alidu, Mattia Lucchesi, Federico Bella, Salvatore Sciacca, Riccardo Germana e Salvatore Pappalardo, allenatore come detto e Nicola Malaguarnera. Tutto pronto agli ordini di testa e arbitro dell'incontro, in telecronaca c'è Giuseppe Signorino, Barbara Catani invece si occupa della parte tecnica con le riprese video e allora 14.30 puntuali, tutto pronto per partire allo stadio regionale, tredicesima, terz'ultima di andata in questo confronto molto atteso perché comunque pur sempre un derby, un derby che fra l'altro ricordiamo torna dopo tre anni, infatti le due squadre si affrontarono per l'ultima volta in quel campo comunale, vecchio comunale decinale, intanto si parte in questo momento e da lì appunto ci fu la promozione del Giarre in eccellenza con il Realaci battuto 2-0 all'ultima giornata, ma adesso siamo nel campionato 2017-2018 e il primo turno di dicembre andiamo in cronaca con questa rimessa a favore del Giarre di Colonna, lo scambio in difesa con Curcuruto, poi dall'altra parte San Filippo, indietro Caputa, da Rigo il rinvio da parte di Colonna, ricordiamo due settimane fa gran parata su calcio di rigore battuto da Mincica del città di Sant'Agata, intanto c'è questa conclusione con il sinistro alta sopra la traversa da parte del numero 10 Daniele Costa, uno degli uomini più rappresentativi, se non addirittura forse il più rappresentativo di questo Realaci che a tenere in forza ha perso, ricordiamo, in febbraio nei mesi scorsi, prossimo probabilmente al passaggio al Laci Sant'Antonio. Curcuruto ancora indietro per Colonna, mantiene molto alto il Realaci, rischia qualcosa il Giarre, poi c'è Patanè che liscia il pallone, allora mette in movimento Dario Patanè del Realaci indietro per il numero 2 Mammone, Drammè, ancora Mammone, pallone indietro per il numero 8 Scalia. Prova a impostare ancora una volta il Realaci che è partito bene in questi primi minuti, è aggressivo, primi tre minuti di gara, c'è adesso Sorbello che va a guadagnare un fallo laterale, l'ha rimessa fuori dalla formazione granata oggi in maglia bianca, c'è il numero 7 Scalia che appoggia in mezzo, anzi era Cutuli che appoggia in mezzo all'area di rigore, libera la difesa del Giarre che prova adesso a ripartire con Caputa, il lancio lungo, là davanti c'è Carbonaro che prova a saltare di testa, lo vanno a contrastare in due, in particolare alla meglio Bisicchia, poi ancora Carbonaro prova il contrasto, attenzione alla conclusione da parte del Realaci con il sinistro di Enrico Cutuli, il pallone che finisce sul fondo, non riesce a uscire il Giarre in questi primi minuti dal proprio metà campo, praticamente non l'ha mai oltrepassata la formazione di Peppe Mascara, bene invece questo Realaci che come abbiamo detto ha cambiato tecnico, c'è Nicola Malaguarnera in panchina, una mossa diciamo così a sorpresa da parte del presidente Merenando Scuderi, 6 punti ottenuti in 12 giornate, davvero magro il bottino, attenzione c'è il Giarre che scatta con la conclusione ed il pallone che finisce sul fondo, ci ha provato Carbonaro con il sinistro primo acuto del Giarre ed ecco dunque che stiamo assistendo ad una partita un po' più equilibrata a questo punto, dopo le prime sfuriate offensive, i primi tentativi comunque blandi da parte della formazione Granata, adesso ci ha provato Nino Carbonaro, il pallone sul fondo l'ha rimessa da parte di Cardillo, Antonio Cardillo classe 99, va con il sinistro a calciare, il pallone che spiove all'interno della linea di metà campo, salta a vuoto Rosario Patanè, poi il pallone adesso per Scalia, ribattuto in fallo laterale da parte di Curcuruto che va al presidio di quella fascia destra bassa, esterna destra bassa difensiva, pallone adesso che spiove dalle parti di uno giocatore delle relazioni in area di rigore, il rinvio da parte del Giarre, tocco di Carbonaro che in semi rovesciata prova a servire un compagno, adesso apre da quest'altra parte dove stiamo vedendo all'opera il numero 7, Caputo, il tiro ed il pallone che finisce sul fondo, grandissima opportunità questa per il Giarre, più netta della prima, applausi da parte del pubblico del regionale, circa 300 gli spettatori qui presenti in questa domenica pomeriggio, 3 dicembre, grandissima opportunità da parte di Caputo che ha provato il tiro a giro e pallone che ha sfiorato il palo, brividi per il Realaci, Giarre che adesso prova davvero a impossessarsi della partita, prendere in mano le redini del gioco, riparte il Realaci da Cardillo, colpo di testa a spezzare la manovra da parte di un giocatore jarrese, si tratta del numero 8 Lamia, che poi riceve, rinvia comunque il Realaci in rovesciata, manca di testa, colpo di testa e fino a chiaro, fino a chiaro ancora lo stop, Drabbeno riesce a dare seguito all'azione, palla che finisce in fallo a trarre la rimessa, e per il Realaci con il numero 2 Mammone, Dramme riconquista, palla la formazione in maglia bianca di Acireale, va quasi sulla linea di fondo, Scalia, nulla da fare, pallone che si perde in fallo a trarre la rimessa, e per il Giarre, Leotta, anticipato, fallo a trarre, San Filippo, il Bucata, per Caputa, guarda in orizzontale, trova solo avversari, fino a Scalia, poi ancora San Filippo, il pallone per Lamia, lo fa viaggiare il Giarre in orizzontale, in orizzontale, adesso attenzione a questa azione che vede il Giarre protagonista con il numero 8, la mia, anticipato e fallo a trarre la mia, prova adesso il Traversone in mezzo all'area di rigore, arrivano davanti Caputa e Carbonaro, c'è un anticipo, poi c'è un fallo da parte dello stesso Carbonaro, calcio di punizione per il Realaci, il fallo è sul numero 5 Pennisi, si incarica dalla battuta il portiere Cardillo, 6 minuti, nel corso del primo tempo, due opportunità dunque per il Giarre, dopo i primi minuti di quasi difficoltà, poi ha preso pian piano la formazione di Pampascale, le contromisure, adesso c'è il pallone per Leotta, Leotta, Leotta va quasi sulle nini di fondo, Leotta prova a dribblare Mammone, che non ha bocca alla finta, e alla fine lo anticipa, va a guadagnare il calcio d'angolo, il primo corner della partita, a favore dei giallo-blu, c'è Leotta Mattia, che si incarica della battuta, c'è l'arbitro di Testa I, che chiede di far allontanare una borraccia, al portiere Cardillo, ma seguiamo subito questo calcio d'angolo, con Leotta che batte a mezza altezza, salta tra me, mette ancora in corner, secondo tiro dalla bandierina per il Giarre, otto minuti, Leotta va a grandi passi ad avvicinarsi, Carrabbino, allora sarà Carrabbino a battere il calcio d'angolo, dunque Leotta gli ha lasciato l'incarico del tiro dalla bandierina, il secondo di questa partita, quasi al nono minuto, si sgombita in area di rigore, grande confusione, parte il traversone, il rinvio da parte sempre di Tremé, può partire in contropiede il Relaci, con Daniele Costa, che rifiore del pallone, attende l'inserimento di qualche compagno, poi molto intelligentemente va a guadagnarsi, un calcio di punizione, Patanè, Dario, alla battuta, fa rettificare la posizione, testa E, Pennisi, anzi è il numero 4, Patanè ha ad incaricarsi, dunque colui che ha subito il fall, ecco Patanè, che batte con il destro, il pallone, che spiove in area di rigore, non c'è assolutamente nessuno, solo Vincenzo Colonna, che blocca, per il Giarrio dunque, 4 punti in due partite, 1-1 con il Sant'Agata, ottimo primo tempo, secondo tempo un po' più di sofferenza, con un rigore fallito dalla formazione, ospite che puntava alla vetta della classifica, aveva il match ball, proprio dagli 11 metri, per arrivare in vetta alla classifica, super Colonna ha fermato Mincica, e poi, la bella affermazione in quelle di Ragusa, contro una delle squadre di bassa classifica, la terz'ultima del girone B, di eccellenza, 3-1, un imponente 3-1, che ha rilanciato il Giarra, e anche le sue ambizioni di vertice, ma naturalmente adesso vedremo anche, quali saranno gli sviluppi, i movimenti di mercato, mercato che si è aperto da due giorni, si chiuderà giorno 15, o per essere più precisi, dobbiamo dire che dall'1 al 15 dicembre, si effettuano le liste di svincolo, quindi poi dal 15 dicembre, i giocatori che hanno ottenuto le liste di svincolo, sono liberi di accasarsi. in qualsiasi club. Adesso c'è questo pallone, che il Real Aci non riesce a controllare, all'altezza del lato corto dell'area di rigore, si perde sul fondo, e va Colonna dunque al rinvio. Il rinvio molto lungo, lui Colonna ha sistemato proprio sotto, un gruppo di ultras giarresi, che hanno esposto oggi uno striscione, 300 chilometri, meritiamo rispetto. San Filippo, strattonato da un avversario, l'arbitro lascia proseguire, probabilmente per la regola del vantaggio, Patanè ancora l'appoggio, per San Filippo, indietro ancora una volta per Patanè, scambio tra i due, cerca di uscire il giarre, allora riparte orizzontalmente, la formazione di Mascara, con lo scambio tra D'Arrigo e Patanè, che gioca da play basso, il pallone poi per Lamia, ancora indietro, stavolta per Miano, parte il traversone, l'alcio lungo, ottima scelta di tempo, da parte di uno difensore del Real Aci, Pennisi, che prova a fare ripartire i suoi, prova a fare uscire il Real Aci, ma non è così, perché c'è da questa parte Lamia, che prova il cross in area di rigore, stacca di testa Pennisi, allontana per un attimo la minaccia, Dramè, costretto a ripiegare, poi fa rimbalzare il pallone sui piedi di Alessandro Curcuruto, e sarà rimessa laterale per la formazione di Aci Reale. Mammone, prova a saltare prima da me, poi lo stop da parte di Scalia, pressing asfissiante da parte del Giar, ma il Real Aci nesce molto bene, c'è Dario Patanè, adesso prova l'imbucata con un pallone terra-area. Adesso attenzione, c'è San Filippo, lo stop perfetto da parte di Sorbello, che ha capito tutto, è rimasto piazzato nella sua posizione. Real Aci che va a guadagnare un fallo laterale. Indicazioni da parte dei due tecnici, entrambi in piedi, stiamo vedendo Nicola Malaguarnera, nella panchina più a destra, rispetto alla nostra postazione, rispetto ai vostri teleschermi, poi Mascara invece nella panchina a sinistra. Scalia. Il pallone adesso per Vito Finocchiaro, prova a ingurrearsi, Vito Finocchiaro, classe 2000, sta giocando a titolare costantemente dall'inizio dell'anno. Adesso attenzione, c'è questo lancio per Carbonaro, anticipo, su di lui è stata montata una guardia, sino a questo momento sta dando i frutti sperati, Carbonaro è stato, ha avuto sui piedi l'opportunità al terzo minuto di sbloccare il risultato, il pallone è finito sul fondo e poi c'è stata l'opportunità, come abbiamo detto, di Caputa, ma sino a questo momento la difesa del Realaci fa buona guardia. Pennisi, non sta facendo le barricate, almeno per quel che riguarda i primi minuti, la formazione di Nicola Malaguarnera, che parte sfavorito sulla carta. Adesso Caputa, indietro, San Filippo, per Patanè. Patanè, sbaglia il passaggio, prova a mettere in movimento un compagno di squadra, mette in movimento invece Coutouli, il numero 7 del Realaci, che comunque controlla male. Allora, fallo laterale per il Giarro, subito battuto da Patanè, cambia fronte, Curcuruto, vede Leotta, sulla catena di destra, sbaglia Leotta, il passaggio al centro del campo, vanamente, prova a recuperare il pallone, poi c'è un colpo di testa da parte di D'Arrigo, che mette il pallone in fallo laterale, dunque Realaci, che prova nuovamente a riproporsi con un'iniziativa offensiva. Sorbello, scambio, corto, poi una semirrovesciata, che mette in movimento in area di rigore un compagno di squadra, si tratta di Finocchiaro, che ha provato la conclusione in due tempi, prima ribattuto, poi il pallone finito sul fondo, allora sarà ancora una rimessa per il giallo-blu, affidata a Colonna. Poi c'è San Filippo, lo scambio indietro per Patanè, ancora una volta il giarre che si muove sulla catena in sinistra con San Filippo, poi Caputa, quindi la mia, forse subisce fallo, non c'è, dice l'arbitro, testa, e ancora possesso di palla per la formazione giallo-blu con Caputa, che allarga per Leotta, forse è troppo lungo, e non ci arriva così il numero 11 delle giarre, spera che finisce nel fallo laterale, si incarica della rimessa Cosimo Mammone, pallone indietro per Alfio Bisicchia, che il capitano è rientrato da circa un mese per impegni personali, ha dato una mano alla difesa per quel che ha potuto naturalmente, Alfio Bisicchia, ricordiamo, ex atletico Pedara, in promozione, Mammone, il lancio con il piatto destro, lungo, lì davanti però c'è la difesa del giarre che controlla, va a protezione del pallone in piano, quindi Colonna, Colonna, scambio due volte con un compagno della retroguardia, non riesce davvero a uscire il giarre, il realaci da davanti sta facendo un pressing molto alto, attenzione, sta rischiando tantissimo veramente Colonna, adesso con questi palloni in orizzontale, alla fine comunque per fortuna del giarre finisce la sfera a San Filippo, Caputa in ritardo, viene comunque anticipato in fallo laterale, deve rivedere sicuramente qualcosa, Mascara, per quanto riguarda il fronte delle ripartenze, perché insomma il realaci lo stiamo vedendo sin dei primi minuti sta pressando molto alto, probabilmente una delle novità tattiche imposte da Malaguarne, adesso c'è il gran controllo da parte di Carbonale, il pallone in area di rigore, troppo lungo, troppo lungo per Leotta, sarà probabilmente calcio d'angolo, per Testaino non è così, ma uno dei due assistenti probabilmente aveva segnalato, infatti stiamo vedendo le proteste di Leotta, no, non c'è stata assolutamente segnalazione da parte del primo assistente viglianesi di Catania, dunque non sarà calcio d'angolo tra le proteste comunque sia di Leotta sia del pubblico del regionale, intanto comunque c'è il rinvio da parte di Cardillo, poi il controllo di Costa che prova l'apertura per 3 metri troppo lungo ancora fallo laterale e si incarica della battuta Curcuruto colpo di testa a respingere da parte di Iscalia poi ancora un altro colpo di testa da parte della difesa del Giarre e calcio di punizione per il Realaci che rimane dunque in avanti adesso diamo uno sguardo al nostro cronometro perché siamo arrivati al sedicesimo nel corso del primo tempo punizione che si sta per battere il Realaci con Daniele Costa attenzione alle soluzioni aeree da parte della formazione ospite adesso intanto batterà col destro Costa girare in area di rigore ecco il pallone che spiove lungo blocca colonna con grande sicurezza poi va a subire probabilmente anche fallo e dunque c'è punizione per il Giarre subito battuta da colonna che allarga per Curcuruto vuole evitare brivido di poco fa e gioca comunque ancora in orizzontale non troppo fluido la manovra del Giarre ma siamo ancora al quarto della squadra abbastanza bloccata poi c'è questo colpo di testa da parte di Sanfilippo che viene preso in contro tempo non si aspettava probabilmente un pallone così teso da giocare comunque con uno stop di petto che non è riuscito allora Sorbello riparte il Realaci la combinazione al limite dell'area che vede protagonista fino a chiaro lo stop da parte di Carbonaro Carbonaro palla al piede con iniziativa da parte di Nino Carbonaro c'è l'anticipo in fallo laterale la rimessa è per il Realaci dice l'arbitro strano perché comunque l'ultimo tocco c'era sembrato di Sorbello comunque si riparte con la formazione Granata che provava a impostare Dram Volè da parte di destro e dall'altro lato la sfera che finisce vicino alla panchina di Malaguardera subito la rimessa abbattuta lo stop da parte di Mattia Leotta che deve vedersela ancora con gran bel duello questo fra i numeri undici esterni del Giar il rinvio di Pennisi poi c'è D'Arrigo quindi San Filippo San Filippo forse è troppo lungo ma c'è un contatto insomma un po' da moviola questo tra Carrabbino e il numero 4 Dario Patanè che si aiuta forse con un gomito comunque l'arbitro Testai dice che è tutto regolare si prosegue Patanè Rosario Patanè il pallone lo stop di Leotta bellissimo all'apertura per Carbonaro l'anticipo con la punta dello Scarpino non era Carbonaro bensì Caputa in calcio d'angolo Guizzo da parte di Caputa anticipo e sarà dunque calcio d'angolo si incarica Giovanni Caputa della battuta in 5 in area di rigore va ad avvicinarsi un compagno di squadra che è la mia poi scambi dietro per San Filippo parte il cross il colpo di testa di Bisicchia e pallone che finisce il fallo laterale attacca il jar incitato dai suoi sostenitori Carbonaro riceve da un fallo laterale parte il traversone molto teso forse non ci arriverà a San Filippo così è e allora nuovamente palla al Realaci in difesa con Sorbello che si accinge a battere questa ripesta laterale la battuta e poi lo scambio con il numero 5 Pennisi va a scavalcare la linea di metà campo Pennisi poi c'è il pallone che comunque Costa non riesce a arpionare Caputa ben piazzato Pennisi il colpo di testa da parte di Tramè il colpo di testa di Daniele Costa ancora una volta Tramè selva di gambe lì davanti alla fine Leotta decide di non andare troppo per il sottile metterlo in fallo laterale ma dall'altro lato il Realaci perde un pallone allora subito dalla battuta del fallo laterale per il Leggiarre ancora un'altra rimessa forse troppo lunga per Leotta che deve vedersela con Mammone lo sta marcando in maniera troppo stretta è un Realaci molto molto agguerrito quello che stiamo vedendo il Giarri che dovrebbe fare la partita comunque stenta ad andare in avanti ripessa dal fondo di Cardillo 20 minuti in questo momento al nostro cronometro 0-0 stadio regionale tredicesima di eccellenza girone bitter sultima della girone d'andata ricordiamo il 17 dicembre la chiusura dei giochi e poi il giro di Boa all'Epifania Dramme indietro per Mammone scambio stretto con qualche rischio di troppo però direi abbastanza organizzato questo Realaci con Scalia poi c'è la finta da parte di Dario Padre che lancia fino chiaro scusate costa costa morbido il pallone inare di rigore Colonna costa per Finochiaro Colonna intervenuto in maniera perfetta con ottima scelta di tempo Caputo subisce un fallo al centro del campo punizione per il Giarre che sale e viene ammonito proprio nell'occasione di questo calcio punizione il numero 3 Sorbello primo ammonito dell'incontro dopo 21 minuti siamo quasi a metà del primo tempo si tratta del numero 3 Daniele Sorbello tanti classe 99 tanti under Cardillo Sorbello Pennisi Finocchiaro Drammè e poi una panchina composta tutta da under ma stesso discorso almeno per quelle che sono le cosiddette riserve anche per il Giarre vediamo questa battuta effettuata da da Rigo poi Caputa prova a saltare di testa arriva Pennisi che lo anticipa subisce anche fallo da parte di Carbonaro che ha da lamentarsi con l'arbitro comunque punizione per il Realaci ecco il pallone che spiove quasi al limite dell'area di rigore salta Patanè con ottima scelta di tempo quindi da Rigo dal numero 5 all'altro Pennisi poi Drammè per Patanè Drammè lascia scorrere fa il velo per Mammone Drammè poi anticipato rimessa per il Realaci dice no l'arbitro che dà invece una rimessa alla Giarre sta lasciando scontenti un po' tutto fino a questo momento la decisione da parte dell'arbitro Patanè Dario poi Caputa Caputa prova a impostare ecco Caputa a destra vede San Filippo che sale va a rimorca San Filippo sbaglia però il cross occorreva sicuramente non un pallone al raso terra ma un pallone molto più alto per scavalcare la linea che si era formata lì davanti di difensori del Realaci rimessa ancora San Filippo San Filippo indietro per Caputa Caputa poi per Miano quindi D'Arrigo lo scambio con Patanè Curcuruto ancora D'Arrigo poi Leotta 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 fa valere la sua tecnica a destra anzi era la mia poi Leotta lo scambia prova a chiudere il triangolo con Curcuruto in realtà non era nella mia ma era la mia e Leotta che avevano provato a dialogare da quel lato anche in questo caso Realaci che non va troppo per il sottile manda il pallone in fallo laterale c'è però un giocatore a terra si tratta di Drammè il numero 11 che rimane infortunato adesso vedremo le condizioni da parte di Drammè 24 minuti ancora 0 a 0 al regionale e il giallo alla fine va a restituire con molta sportività il pallone a Cardillo visto che il gioco si era interrotto per l'infortunio a Drammè poi il pallone per Scalia dopo il rinvio del portiere si libera molto bene Cutuli 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 prova a entrare in linea di rigore attenzione Cutuli non salta però il muro difensivo del Giarre Carbonaro troppo lungo per lui troppo fuori misura e allora Patane lancia con il piatto il pallone assume un effetto particolare finisce comunque dalle parti di Colonna San Filippo si libera in grande stile di un avversario ottimo il lavoro di San Filippo Caputa poi Carbonaro Carbonaro vede ancora una volta San Filippo ma sbaglia il passaggio in orizzontale e poi attenzione perché c'è ancora un pallone per il Giarre allarga per Leotta un compagno di squadra Leotta Leotta provi a trarre le rigore la conclusione con il destro telefonata sul portiere l'assista era stato di La Mia che ha visto Leotta da quella parte semilibero diciamo così di prendere iniziativa a concludere a rete pallone bloccato a terra Cardillo stavolta va a cercare il esattore sinistro tra me è fortunato nel rimpallo lo vince su Curcuruto prova il numero due Giarrese a tornare sui suoi passi tra me controllo infelice e il pallone che ferisce in fallo laterale la battuta da parte del Giarre Leotta che controlla il pallone spazi molto stretti rilasci molto ben messo in campo con un 4-4-2 Giarre invece con un 4-3-3 con Leotta Caputo e Carbonaro in avanti adesso c'è Patanè Patanè poi il pallone per Caputa aveva provato il dialogo con Carrabino all'anticipo in fallo laterale la novità si chiama appunto Alessio Carrabino classe 2000 questa novità di formazione Patanè poi il pallone per San Filippo San Filippo che prova il cross con il malgiro in area di rigore il colpo di testa da parte di Carbonaro ha provato a incornare girata però troppo angolata il pallone che è finito sul fondo ripensa dal fondo da parte di Cardillo 25 superati da poco 27 addirittura i minuti nel corso del primo tempo Leotta Leotta controllo bello con il sinistro preferisce scaricare indietro per Curcuruta ancora un controllo di Leotta forse il pallone è fuori si fa la trale per il Realaci Mammone poche emozioni sino a questo momento due per la precisione quelle del Giarre Patanè apre per Caputa lo scambio con Carbonaro che prova a entrare in area di rigore anticipo su di lui da parte di uno difensore tra gli applausi del pubblico lo scambio adesso il dialogo con Caputa che entra in area di rigore Caputa sbaglia anche questa volta il traversone e alla fine Patanè spazza allontana la minaccia colpo di testa dell'altro Patanè quello Rosario quello del Giarre poi il pallone per il numero 4 Dario Patanè che deve vedersela con una serie di giocatori del Giarre che gli sbarrano la strada e allora il Realaci decide di cambiare fronte e provare a giocare a sinistra dove c'è forse un po' più di spazio per tra me quindi Mammone poi indietro per Dario Patanè Dario Patanè con il piatto prova a poggiare per costa leggermente ostacolato e alla fine il pallone finisce sulle braccia di Colonna tanti palloni toccati dai portieri ma non per interventi particolari quanto piuttosto per passaggi molto spesso imprecisi da parte dei rifinitori degli attaccanti adesso c'è Carbonaro Carbonaro che prova a controllare un pallone lo scambio con San Filippo San Filippo finta finta San Filippo trova lo spazio per costare il traversale traversa traversa da parte di San Filippo grandissima giocata da parte del numero tre con il pallone che ha timbrato la traversa ed è poi schizzato sul fondo rivessa da parte di Cardillo sbaglia o quanto meno è troppo precipitoso nel rinvio comunque non ha calibrato molto bene la sinistra e allora il Realaci va a regalare questo fallo laterale al Giarre con la subito battuta da parte di San Filippo poi Patanè Patanè allarga per Leotta meglio dire anche che cambia il fronte Leotta di Solente Dramega rimane ancora a terra infortunato comunque Leotta sbaglia l'iniziativa personale poi forse va a subire un fallo comunque il gioco è fermo perché ancora una volta Dramega si sta dimostrando un vero e proprio lottatore rimasto a terra infortunato mezz'ora esatta rimane ancora a terra con qualche problema tra me che comunque si rialza quindi non ha bisogno dell'intervento dalla panchina delle cure necessarie Mammone accanto proprio a tecnico Peppe Mascara la sua prima vera e propria esperienza con una prima squadra ricordiamo lui nelle giovanili delle Catania in particolare con l'Under 15 lo scorso anno protagonista quando riuscì a centrare i playoff e adesso insieme a uno dei veterani Angelo Sciuto uno dei giocatori sicuramente che ricorderanno in molti in quanto ex Catania San Filippo dicevo tutto da un compagno provato l'imbucata per Carbonaro ma ci sono Pennisi e Bisicchia molto attenti nella circostanza lo stanno marcando gli hanno messo la muservola sin dall'inizio adesso c'è Miano che deve vedersela con fino a chiaro Miano indietro sbaglia il passaggio una leggerezza difensiva che stava per costare cara ma Dramevo è stato controllato in estremis e allora da questo lato c'è il passaggio per Leotta da parte di Curcuruto Leotta Leotta che entra in area di rigore Leotta l'anticipo di Bisicchia e pallone calcio d'angolo il quarto corner per il Giarre che rimane in costante proiezione offensiva ma non pungono il giallo-blu dalle parti di un relaci che in questo momento sta dimostrando di essere una vera e propria fortezza in difesa molto ordinato negli interventi molto precisa avrà sicuramente lavorato tantissimo ma la Guarnera in questa sua prima settimana parte il cross adesso dal calcio d'angolo la rovesciata e poi il pallone sul fondo una rovesciata da Tergo da parte di Ciccio d'Arrigo e pallone che finisce oltre la linea di fondo con Cardillo che si accinge all'ennesima rimessa in gioco 32 i minuti al nostro cronometro dunque 13 più eventuale recupero con Cardillo che si incarica della rimessa con il sinistro colpo di testa parte di Patanè poi però attenzione c'è il numero 9 Finocchiaro che prova l'incursione in area di rigore troppo lungo per Couturi e pallone che sfila anche in questo caso sul fondo ma stavolta la rimessa è per il jar e colonna a battere colonna va subito alla battuta per Carbonaro l'anticipo ancora una volta da parte di Pennisi che in questo momento sta vincendo il duello aereo ma anche il duello fisico proverà invece a fare valere Nino Carbonaro la tecnica ecco che tocca il pallone poi scambio con Caputa da quest'altro lato Caputa Caputa eccolo il traversare con il destro Bisicchia da terra piedi uniti riesce a rilanciare con il destro non mette comunque il movimento suo anche per lo straordinario controllo da parte di Saro Patanè poi San Filippo San Filippo guarda prova il dialogo eccolo con Leotta che si è spostato sul fronte opposto da destra a sinistra Leotta cerca spazio ma c'è il gioco fermo forse per posizione regolare sì posizione regolare da parte di Curcuruto su segnalazione di Viglianesi qualche contestazione nella circostanza pulizione che Pennisi si carica di battere ecco Pennisi prova con l'esterno il lancio luogo nulla da fare interviene ancora Patanè poi indietro per il numero 5 che è D'Arrigo colonna Miano ancora una volta D'Arrigo ancora un pallone indietro per colonna qualche mogugno da parte del pubblico per questi passaggi molto stretti a limite dell'area di rigore perché davvero non ci sono spazi per poter avviare una manovra la rimessa per il Larellaci con Mammone ecco Mammone che si incarica dalla battuta del colpo di testa il pallone che si piove quasi a limite dell'area di rigore con Costa che lo controlla Costa una battaglia lì davanti dalle parti di Curcuruto con anche i compagni che gli dà Manforte e alla fine il Raleci esce con un fallo laterale guadagnato Mammone sale la formazione Granata rimangono solamente in tre quasi sull'unità di metà campo tra me tra me il controllo ecco tra me che si libera di Curcuruto parte il cross direttamente su Colonna nulla da fare Colonna va subito al rivio prova a cercare Carbonaro ma troppo prevedibile questo rilancio è stato il colpo di testa liberare del numero tre Sorbello poi Patanè la mia quindi San Filippo San Filippo San Filippo altro anticipo sempre di Sorbello sempre di un difensore Relaci anzi in questo caso è Cutuli che è andato in fase di ripiegamento quindi Patanè Patanè prova il traversone dall'altra parte c'è Leotta Leotta vedremo cosa farà Leotta proverà a entrare in area di rigore invece ha crossato direttamente forse troppo lungo ma c'è un contro traversone tentato da San Filippo che guarda i compagni alla fine costretto a scaricare indietro per la Carrabino parte il traversone il colpo di testa ed il pallone che finisce fuori stavolta è stato di Caputa colpo di testa che comunque era fuori portata e non ha impensierito più di tanto Cardillo 36 e 30 al nostro cronometro dunque 8 e mezzo più recupero al termine della prima fazione di gioco ci attendiamo sicuramente un secondo tempo diverso ma con questo Relaci è davvero difficile passare adesso c'è Carbonaro che imposta dai e vai con Leotta 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 prova il cross salta Carbonaro di testa anche in questa occasione c'è poca potenza nella sulla testa la parte di Nino Carbonaro allora blocca Cardillo senza problemi ben piazzato in difesa fa ribalzare il pallone poi rinvia quasi fuori area per Trammema c'è un colpo da carate da parte di Curcuruto che mette il pallone in fallo laterale rimessa adesso di numero 2 del Relaci Mammone Costa il rinvio della difesa del Giarre con Caputa Caputa che conclude il meglio un dialogo con Carbonaro ecco Leotta tre attaccanti con palla in rapido movimento Leotta costretta a scaricare indietro c'è un traversone Carbonaro è tutto solo in area di rigore proteste da parte del Relaci si continua dice l'arbitro forse per un controllo sospetto controllo di mani comunque non c'è assolutamente nessuno Carrabini il pallone per Caputa che occasione questa di Giovanni Caputa che ha controllato in maniera perfetta aveva il pallone incollato lì sul destro e poi morbido senza assoluta potenza cercava l'angolazione è stato ipnotizzato da Cardillo ma poteva fare sicuramente meglio Caputa e questa è un'altra opportunità da parte di un Giarre che rimane sempre col pallino del gioco in mano ma la davanti non riesce a concretizzare abbiamo visto insomma le punte che si sono dannate tantissimo ma l'imprecisione sta giocando davvero un brutto scherzo per il Gelo Blu quest'oggi comunque siamo a ridosso del quarantesimo ci saranno oltre questi cinque minuti da qui allo schedere anche tutti i secondi quarantacinque minuti per poter avere più cattiveria poter mostrare più cattiveria e determinazione sottoporta quella che fin qui finora è mancata adesso c'è uno e lancio proprio per Nino Carbonaro che prova a scattare quasi proprio sul filo del fuorigioco Carbonaro parte e la traversone blocca ancora una volta Cardillo Caputa stava arrivando da dietro ma era troppo lontano evidentemente Carbonaro ha scelto questa soluzione di crossare proprio sul portiere proprio perché non c'era assolutamente spazio un plauso un merito da riconoscere a una difesa delle Relaci organizzata in maniera perfetta la rimessa adesso è di Mammone 5 al termine Patanè sfugge il controllo del pallone allora prova a ripartire il giarre con questo pallone che filtra in linea orizzontale da centrocampo va a riconquistarselo Carbonaro vince stavolta il duello con i giocatori delle Relaci poi c'è un fallo si continua dice l'arbitro per la regola del vantaggio dall'altro lato c'è Mattiale Otta Mattiale Otta controllo prova a tagliare l'orizzontale ecco il pallone per la mia poi il numero 10 che è Carrabbino sbaglia però ancora una volta il passaggio tra il disappunto del pubblico Costa Drammè attenzione Drammè però c'è Miano ancora in difesa il Giarre prova a ripartire c'è questo scambio con Caputa che cicca il pallone di testa troppo lungo San Filippo è l'ultimo ad arrendersi poi va a commettere un fallo su Sorbello duello tra i numeri tre ma c'è una inversione di posizione rispetto alle classiche maglie indossate il Relaci schiera Mammone a sinistra con il due e Sorbello con il tre al contrario invece il Giarre curcuruto a destra con il due San Filippo con il tre questa diciamo è la classica schieramento per chi indossa questo numero di maglia da Rigo sul pallone indietro per Colonna Miano San Filippo poi lo scambio con Patanè il dialogo a centrocampo fa filtrare molto bene il pallone adesso il Giarre con Leotta ma va a sbattere anche con un po' di fortuna il pallone su Mammone quindi Scalia poi Drammè controllo da parte di Drammè va a guadagnarsi un calcio di punizione migliore in campo del Relaci ma direi che anche la coppia difensiva Penni si bisicchia sino a questo momento a pieni voti promossa ma siamo naturalmente solo ancora nel primo tempo punizione per il Relaci quando il nostro cronometro segna lo scadere il primo tempo 42 quindi mi mancano 3 più recupera attenzione al controllo di Drammè in area di rigore cade Drammè nulla di particolare dice l'arbitro non c'è assolutamente intervento poi Pennisi Drammè forse va a subire fallo dice l'arbitro di proseguire per la regola del vantaggio Scalia Scalia e stavolta è lui che va a subire fallo molto aggressivo questo Relaci e lo scadere del primo tempo che ha subito il fallo in area poco fa è Daniele Costa e non Drammè come abbiamo detto abbiamo una posizione certo non felice questa per commentare la partita quindi cerchiamo di andare un po' a senso in base alle posizioni assunte in campo dai giocatori adesso c'è questa punizione per il Relaci due più recupero al termine del primo tempo ecco il calcio di punizione subito battuto il pallone che finisce in area di rigore blando però arriva nel giarre vince un duello fisico da Rigo poi per Caputa in orizzontale per Patanè si scontra con un giocatore vediamo l'arbitro cosa decide che probabilmente calcio di punizione per il Relaci infatti ci sono le proteste da parte del capitano Patanè qualche incertezza di troppo da parte di Testa I in questo primo tempo sta scontentando ripetiamo un po' tutti è per i falli letterali è per i calci di punizione comunque la punizione è per il giarre quindi probabilmente a questo punto Patanè lamentava forse la sanzione con un cartellino giallo per una gambatesa sta mimando proprio Saro Patanè in questo momento di avere subito e allora accanto a lui c'è San Filippo poi all'interno dell'area di rigore stiamo vedendo Caputa vediamo anche vediamo anche altri giocatori che si piazzano proprio al limite dell'area di rigore ma batterà Patanè proverà a far spiovere il pallone in area di rigore ecco Patanè che batte c'è il colpo di test in alleggerimento di uno difensore delle Relaci comunque smorza la sfera si trattava del numero 5 Pennisi e pallone su Cardillo chiedesimo rinvio ancora del portiere delle Relaci che fa ribalzare il pallone sceglie stavolta la soluzione centrale lo stop da parte di Costa poi Curcuruto allontana Leotta si sgancia da quell'altro lato la mia ma c'è il pallone per Carrabbino che sbaglia l'apertura poi Patanè e finisce in questo momento del primo tempo senza praticamente recupero perché l'arbitro manda al 45esimo tutti negli spogliatoi stati regionali di Giarre tredicesima di eccellenza girone B finale di primo tempo Giarre Relaci 0 a 0 amici di Sesta Rete ci risentiamo per i secondi 45 minuti di gioco amici alla visione di Sesta Rete Ionica ben trovati per il secondo tempo tutto pronto per ripartire tra Giarre e Realaci campionato di eccellenza giornale B tredicesima giornata controllo delle porte da parte degli assistenti vigliaresi e Sorace di Catania l'arbitro il direttore di gara Testa I anche lui di Catania Giarre Relaci hanno chiuso la prima frazione a Rete inviolate 0 a 0 un ottimo Relaci in questo primo tempo il Giarre ha sfiorato il gol in tre circostanze ma non è riuscito a bucare la solida difesa schierata dal neotecnico Malaguarnera andiamo subito a rivedere le formazioni il Giarre con Colonna tra i pali Curcuruto San Filippo Tarrico e Miano in difesa Patane Lamie Carrabino al centro del campo Caputa Leotte Carbonaro di punta in panchina Romano Spampinato Marco Spampinato Jose Marrone Messina Santito e compagni allenatore Mascara Relaci Cardillo Mamone Sorbello Dario Patanè Pennisi Bisicchia Cutuli Scali Finocchiaro Costa e Drammè in panchina con lei Alidu Lucchesi Bella Sciacca Germana Pappalardo allenatore Malaguarnera primo pallone giocato dal Giarre adesso che prova ad andare in avanti ma c'è il solito Canovaccio con il Relaci che controlla in difesa adesso c'è Drammè che va lo scambio con Cutuli poi perde per un attimo il pallone va a riconquistarlo con grande capabilità poi lo perde in un secondo momento e allora mette in movimento innesca Leotta il Giarre adesso Leotta resista una carica parte di Mammone Leotta ancora una volta in possesso del pallone aveva perso il pallone lo ha riconquistato mette in mezzo il pallone indietro ancora per Leotta che cerca il dialogo quasi sull'interno di fondo con la mia parte il cross in area di rigore salta un'attaccata del Giarre poi colpo di testa il pallone sul fondo è stato Carbonaro mette il pallone fuori rimessa dal fondo da parte di Cardillo uno è monito nel corso del primo tempo Daniele Sorbello del Realaci poi 5 corner per il Giarre 0 per la formazione Granata che comunque non sta assolutamente sfidurando a fronte dell'ultimo posto in classifica poi c'è Patanè un rinvio un po' maldestro riconquista il pallone in Realaci mette comunque la parola fine a questa azione del Realaci Carrabino che poi però apre troppo lungo per Leotta il fallo e per il Giarre due minuti nel corso del secondo tempo la rimessa è di Alessandro Curcuruto pallone per Patanè in orizzontale per Carrabino poi prova la verticale per Carbonaro dai e vai da quest'altro lato c'è Caputa poi San Filippo parte il cross in area di rigore stacca staccano due difensori del Realaci ad allontanare parzialmente la minaccia invece poi comunque il pallone sempre per la formazione 10 Reale che adesso con Cutuli prova ad andare in avanti attenzione largo per un compagno di squadra che è il numero 10 Daniele Costa cade non c'è fallo dice l'arbitro San Filippo ancora il Realaci al centro del campo che imposta Costa prova un tiro a sorpresa però assolutamente senza senza cattiveria e pallone per colonna poi Patanè dopo aver ricevuto da D'Arrico Patanè controllo quasi sulla linea del fallo laterale da parte di Caputa poi ancora il Realaci Carabino con il sinistro mette oltre la linea del fallo laterale la rivessa e per la formazione ospite controllo di Finocchiaro prova il dialogo con un compagno c'era Costa comunque lì davanti che non viene servito altro fallo laterale per il Realaci che rimane poco più avanti indietro Finocchiaro poi il pallone per Scalia quindi colonna mette subito il movimento di suoi va a cercare Carbonaro poi Drammè Stradica Curcuruto il pallone dai suoi piedi mette il movimento Carbonaro allarga per Caputa Caputa ha spazio per crossare vede al centro sempre Carbonaro però è il Realaci che fa Argine davanti allora Finocchiaro partita molto maschia pur comunque non cattiva dobbiamo sottolineare attenzione a Costa che prova a curearsi in area di rigore in due su di lui alla fine intervento liberatorio da parte di San Filippo era stato perfetto Miano comunque nel controllo gli aveva preso molto bene le controvisure Mammone poi il pallone per Filocchiaro che ha cercato qualcosa simile a un sombrero ma assolutamente impeccabile Carrabino quindi Patanè Leotta 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 a spazio prova ad andarsene dal settore di centro-sinistra della Patanè Carrabino non allarga sbaglia il passaggio mette in movimento le relaci che può andare in contropiede bisogna fare molta attenzione Costa Costa c'è fantasia per lui Costa può provare la conclusione palla che finisce addirittura in tribuna 5 minuti nel corso del secondo tempo ancora Redinviolate 0-0 serve un pallone ma c'è anche il primo cambio per il giarre dopo 5 minuti lascia il campo Carrabino un esordio diciamo così da 6 6 e mezzo in pagella per lui e entra e allora entra Piero Marrone ex Biancavilla centrocampista per centrocampista dunque 1-98 per 1-2000 adesso Colonna chiama a salire tutti i suoi invita a salire i suoi compagni lancia lungo dove c'è Leotta il controllo Giare sta provando a bypassare il gioco nella propria tre quarti adesso c'è proprio Marrone che prova a impostare allarga per Caputa poi il pallone ancora una volta per Carbonaro che si allarga a sinistra cerca lo spazio Carbonaro eccolo in fase di assist man con un cross la centrale del rigore spazza le fese le relaci poi c'è probabilmente un fallo che l'arbitro assolutamente non vede era molto lontano comunque il direttore di gara nella circostanza poi attenzione a questo passaggio in area di rigore rinviare la difesa del Realaci Finocchiaro poi da Rigo indietro colonna quindi Miano e poi San Filippo resiste alla carica di Costa San Filippo fa viaggiare in orizzontale il pallone per Patanè Patanè a destra per il numero due che è Curcuruto Leotta quindi il pallone adesso per Lamia il rinvio ancora per il Realaci ancora una volta molto bebezza di difesa però sradica il pallone marrone dai piedi di un difensore non ci sono assolutamente spazi per poter concludere a rete o impostare qualcosa degno di nota poi c'è comunque il pallone fisce in fallo trale su segnalazione dell'assistente Testa dice che è rimessa per il Realaci in difesa di Lagiarra adesso c'è un alleggerimento per Colonna da parte di D'Arrigo nuovamente possesso del pallone poi Patanè Patanè per via centrali marrone marrone poi il pallone adesso ancora una volta per il Giarra con Lamia che con il piatto prova a servire Carbonaro troppo lungo troppo fuori misura Carbonaro si aspettava il pallone un po' più centrale invece ha preferito l'imbucata verticalmente lì dove comunque c'era solo Cardillo il colpo di testa di D'Arrigo a respingere e poi la mia il pallone per San Filippo con il piatto cambia fronte per Leotta tutto il tempo per controllare guarda in mezzo Leotta parte il cross troppo lungo il pallone che finisce quasi sulla linea di fondo poi ha provato un attaccante del Giarra rimetterlo in movimento comunque scoordinato allora fallo laterale sarà per il Relaci nove minuti nel corso del secondo tempo San Filippo a presidio della fascia sinistra Colonna Patanè quindi D'Arrigo cambia fronte ci prova adesso Curcuruto ancora Patanè prova adesso a lanciare Leotta Leotta aveva visto si è inserito Leotta il controllo va quasi sulla linea di fondo lo scambio con un compagno che è curcuruto parte il cross c'è un rinvio per un attimo da parte la defensa del Relaci colpo di testa e il pallone che finisce sul fondo occasione per il Giarra con il colpo di testa crediamo di Carbonaro terminale offensivo la mia colpo di testa e con Non Carbonaro il pallone che è finito abbondantemente oltre la linea oltre la linea di fondo poco sopra la traversa quindi opportunità per il Giarra con il cross di Curcuruto dopo il dialogo con Leotta e il colpo di testa della mia che è finito sul fondo Miano poi San Filippo costretto a muoversi sullo stretto ancora una volta Miano e ancora una volta San Filippo ne esce bene il Giarra da questa situazione un po' critica Carbonaro lancio assolutamente nel vuoto c'è Cardillo tutto di prima il Relaci ma dalle parti di Miano non c'è assolutamente nessuno lo scambio lo scambio con Francesco D'Arrigo poi Patanè stiamo assistendo lo stesso Canovaccio del primo tempo Patanè prova ad allargare a sinistra dove c'è Caputa anticipo su di lui in fallo laterale dieci minuti trascorsi in questo secondo tempo quindi Miano ancora con D'Arrigo il dialogo tra i due centrali difensivi che giocano molto larghi contrariamente a quelli della Relaci che invece stringono nella morsa Carbonaro la mia poi Patanè quindi il pallone per Marrone Marrone a buon gioco della Relaci prova a ripartire con Finocchiaro perde il contrasto al centro del campo ancora Patanè sui piedi partono tutti i palloni quando si inizia un giocato o almeno si inizia una proposizione offensiva cade adesso uno giocatore del Giare a terra si riparte con Dremme poi il pallone per Finocchiaro che prova lo spazio scusate per Costa che prova lo spazio Patanè poi Leotta la mia lancio per Carbonaro l'anticipo del numero 6 Bisicchia sul fondo e allora sarà calcio d'angolo il sesto della partita per il Giare che prova ad attaccare ma di fatto in questo secondo tempo ha costruito in 10 minuti una opportunità c'è il corner sempre Leotta si incarica della battuta mischia in area di rigore Bucchio Selvaggio vediamo cosa nascerà da questo corner di Mattia Leotta testa di richiama i duellanti in area di rigore ripetiamo ancora una volta davvero un mucchio parte il cross di Leotta il pallone che spiova in area di rigore dall'illusione ottica dell'avvicinamento alla porta comunque è fuori poi curcuruto Patanè l'apertura per Caputa fuori gioco stavolta a sbaglierarlo è stato Giulio Sorace di Catania si piazza alla destra della nostra postazione dunque in offside Giovanni Caputa punizione per il Relaci con Cardillo che si incarica della battuta nel frattempo stiamo vedendo altri del Giare che si riscaldano nessuno invece del Relaci evidentemente ci pensa un bel po' ma la Guernera prima di cambiare qualcuno dei suoi uomini per il momento va bene così la Relaci che sta rischiando davvero poco la mia allarga per Leotta lo stop di petto Leotta sombrero su un avversario con il sinistro il rinvio poi parte del Relaci adesso c'è Tramè deve vedersela con curcuruto Tramè Tramè migliore in campo dobbiamo dire Tramè che adesso prova a ripartire si accentra lo scambio con il numero 8 Scalia da quest'altro lato adesso il Relaci che prova ad attaccare a destra troppo lungo comunque ma c'era Cutuli sul Miano quindi San Filippo riparte il Giarre San Filippo lo scambio con D'Arrigo attenzione Colonna era lì in agguato anzi scusate era il numero 9 fino a chiaro in agguato Colonna lo ha bruciato sul tempo per fortuna del Giarre rischi curcuruto Leotta si accentra Patanè quindi Marrone sta dando un po' più ordine dal centro del campo Marrone e poi il pallone per San Filippo San Filippo prova a entrare in area di rigore il rompe Leotta adesso con il sinistro smorzato e poi pallone in fallo laterale Patanè sugli sviluppi della rimessa laterale San Filippo il cross in area di rigore il controllo non dei migliori da parte di un attaccante crediamo sia stato Carbonaro e allora D'Arrigo anche lui in avanti a destra per Curuto la mia con la testa ancora una volta D'Arrigo sta salendo il giarre adesso c'è il pallone in area di rigore respinto dalla difesa dell'area Laci quindi Miano Caputo non riesce a proseguire l'azione il pallone adesso è per lui fase di confusione là davanti probabilmente solo un episodio potrebbe consentire alla giarre di sbloccare questa difficilissima partita contro l'ultima in classifica Curcuruta l'ha rimessa in gioco il pallone per un compagno di squadra in questo caso è Leotta anzi che poi finisce fuori controllato malamente però non c'è calcio d'angolo dunque semplice rimessa per il Realaci col passare dei minuti sicuramente aumenta più la responsabilità di arrivare sotto porta di essere più lucidi sotto porta questo naturalmente gioca a sfavore del giarre al contrario invece delle Realaci che col passare dei minuti prende sempre più consapevolezza di poter difendere questo preziosissimo 0-0 che significherebbe cominciare un nuovo ciclo dopo quello di Eugenio Seminara adesso attenzione Lamia col piatto mette in movimento Caputa Bacce piazzato in maniera perfetta uno difensore delle Realaci che appoggia comodamente a Cardillo nulla da fare 17 minuti ancora un colpo di testa di Darrio ancora un rinvio da parte delle Realaci poi dall'altro lato San Filippo con il piatto ancora il Realaci argine al centro del campo perfetto Curcuruto poi c'è uno scontro con Dramme e c'è un cartellino giallo per Curcuruto che si mette le mani nei capelli dalla disperazione ma in effetti insomma non abbiamo visto assoluta cattiveria in questo fallo perché di fatto Curcuruto era praticamente davanti a Dramme e allora cambio attenzione al cambio Giarre che adesso forse si giocherà del tutto per tutto vediamo chi sta per entrare e allora Salvadori Messina per Giovanni Caputa in campo a ridosso del ventesimo minuto maglia numero 16 per Messina il primo cambio invece l'avevamo visto al posto di Carrabino è entrato Marrone zero cambio ancora per il Realaci ammonito Curcuruto fasi leggermente concitata del match ma non ci sono ritmi altissimi molto bassi subito calcio di punizione per il Realaci che viene battuto al centro del campo salta colonna che di fatto non ha rischiato assolutamente nulla se non per qualche giocata difensiva con un pressing alto del Realaci all'inizio della partita e poi in questo quarto d'ora della ripresa adesso c'è il pallone che viene toccato da Marrone e Patanè poi Marrone ecco Marrone che va a guadagnarsi un preziosissimo calcio di punizione a circa dieci metri dall'area di rigore e allora entrano tutti in area soprattutto i saltatori stiamo vedendo D'Arrigo stiamo vedendo Patanè naturalmente Carbonaro e altri si sistema la barriera a due del Realaci la punizione è sui piedi di La Mia ecco che batte La Mia con il pallone che spiove in area di rigore ancora un intervento da parte del Realaci in difesa Drambe pensa a quattro avversari riesce a difendere il pallone poi lo scambio con Coutuli c'è fallo su di lui punizione per il Real costretto a ripiegare in difesa il Giar Messina è l'uomo più avanzato la linea dei difensori si ricompone il calcio di pulizia subito per il Realaci salta Patanè vada a lottanare pallone poi per La Mia quindi Carbonaro Leotta 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 spazio per crossare incitato anche dal pubblico 8 Leotta sulle linee di fondo con il piatto cicca la sfera un attaccante del Giar poi tra me ancora Curcuruto poi La Mia irriconoscibile la sua maglietta ha lottato tantissimo pochi gli spazi per lui adesso c'è da quest'altro lato Messina parte il traversone il pallone che attraversa tutta la redigore finisce sui piedi di Curcuruto ancora un cross libera ancora il Realaci è un vero e proprio a serio poi San Filippo allarga per Marrone Messina Messina indietro per Marrone Marrone prova il cross Carbonaro di testa anzi era Leotta di testa Leotta di testa l'anticipo in calcio d'angolo salvataggio provvidenziale di un difensore delle Realaci e attenzione il gol è nell'aria a questo punto possiamo dirlo 21 minuti stringe i tempi il Giarre deve assolutamente sbloccare il risultato Realaci che si sta chiudendo Leotta va la battuta del corner il colpo di testa ed il pallone che finisce sul fondo opportunità Nino Carbonaro non ha fortuna oggi proprio con i colpi di testa possiamo dirlo aveva tentato un'azione simile nel primo tempo Cardillo va alla rimessa in gioco il pallone che supera poco oltre la linea di metà campo c'è Costa che lo controlla poi va a guadagnarsi una punizione sale il Realaci Giarra ancora una volta costretto a ripiegare questi sono i momenti naturalmente più critici per una squadra quando su una azione di rimessa in questo caso il Realaci va a guadagnare una punizione dunque costringe a ripiegare l'undici giallo-blu parte la punizione il controllo da parte di Finocchiaro il colpo di testa molto molto debole da parte di Scalia a buon gioco Curcuruto e scusate Colonna poi Colonna che subito va al rinvio il colpo di testa da parte di Carbonaro prova a mettere in movimento Messina ci mette il piede Messina comunque pallone che finisce sul fondo sarà dunque rimessa rimessa laterale pallone evidentemente era uscito ben prima del tocco da parte di Salvo Messina poi con la testa Costa tra me Finocchiaro avanza il Realaci da destra prova a fermarlo e lo fa con ottima scelta di tempo Miano poi c'è una rimessa sarà rimessa dunque per il Realaci c'è qualche protesta forse con gli addetti al servizio d'ordine al campo e con la rimessa con le mani per Costa Costa il controllo San Filippo su di lui bravissimo San Filippo lotta il problema è ancora per Costa ma comunque fermo perché Viglianesi ha alzato la bandierina siamo arrivati al venticinquesimo Cardillo eh scusate Colonna l'invio da parte di Pennisi poi c'è Curcuruto dietro per Darrigo Miano ancora Miano avanza palla al piede a spazio apre per Leotta a supporto c'è Curcuruto Leotta ecco proprio il pallone per Curcuruto cross troppo precipitoso va comunque a guadagnare un calcio d'angolo il numero 8 di questa partita lascia l'incarico a Leotta proverà il Mancino a girare in area di rigore in tanti si propongono sotto porta si sgomita tantissimo parte il cross di Leotta salta un giocatore del Giarri poi però commette fallo appoggiandosi alle spalle di un difensore delle Relaci e ancora un calcio di punizione per gli ospiti attenzione al terzo cambio per il Giarri allora stiamo vedendo se non erriamo compagno però adesso attendiamo conferme intanto comunque lascia il campo Patanè fuori compagno e allora tenta di dare più spinta offensiva Mascara al suo giarre capisce che naturalmente i tempi sono molto stretti c'è necessità di sbloccare il risultato per raggiungere in classifiche quota 22 punti che significherebbe piazzarsi dentro i playoff o comunque ai margini della zona che conta di classifica attenzione a Carbonaro il pallone forse un po' troppo lungo lo recupera con il sinistro Carbonaro Carbonaro contro controllo il fa finta e poi il gol il gol di Lilo Carbonaro eccolo il guizzo che aspettavamo da parte del giarre ed è arrivato un assist in verticale per Carbonaro e poi pallone in rete dopo una serie di finte a spiazzare Cardillo lo avevamo detto praticamente da dieci minuti il giarre stava stringendo da sedia un Realaci che si era sempre più chiuso a ventaglio nei propri 16 metri di fatto aveva oltrepassato la metà campo solo con due calci di punizione e alla fine è arrivato Nino Carbonaro con la sua freddezza sotto porta lui che non ha avuto fortuna nei colpi di testa oggi lo ha avuto stavolta con il pallone tra i piedi lo ha piazzato lì in rasoterra con Cardillo che non poteva fare assolutamente nulla nella circostanza anche perché Carbonaro stavolta è riuscito a sfuggire alla guardia dei due centrali che sono Pennisi e Bisicchia sino a questo momento perfetti controllori marcatori a uomo e adesso provare a partire della Realaci c'è qualche cenno piccolissimo di reazione con questa rimessa di Mammone per Drammè troppo lunga pallone che finisce fuori Colonna alla rimessa in gioco il gol è giunto al minuto 26 dunque Colonna Drammè il controllo va in orizzontale per il numero 7 che è Cutuli nel vuoto c'è solo Colonna da quelle parti a questo punto il giallo blu toccherà solamente amministrare il risultato ci attendiamo naturalmente delle mosse da parte della Realaci del suo tecnico Malaguarnera nuovo tecnico ancora nessun cambio assolutamente si sta assolutamente fidando della formazione schierata titolare il rinvio adesso di Colonna poco fuori dall'area di rigore salta di testa Messina Drammè poi spedisce il pallone sul fondo a tutto campo questo numero 11 Coloned del Realaci Marrone poi Messina dopo il tocco di San Filippo ecco Messina il dialogo tutto a sinistra pallone centrale davvero è stato difficilissimo scardinare questa difesa oggi Miano D'Arrigo Curcuruto e quindi Marrone la mia tocco da parte di Daniele Compagno quindi D'Arrigo le 8 anticipato sarà fallo laterale per il Giarre D'Arrigo poi Marrone Curcuruto Leotta poi c'è probabilmente un fallo così è sul numero 11 Mattia Leotta punizione Marrone Marrone per San Filippo quindi compagno prova a far filtrare il pallone in seconda battuta adesso ci riprova il Giarre che rimane la davanti il Relaci è progressivamente spredito dal campo adesso c'è la conclusione con il destro Debole da parte di Carbonaro poi ancora un anticipo in parola laterale stavolta di Cutuli la rimessa però dice l'arbitro è del Relaci evidentemente c'è stato un ultimo tocco da parte di una difensora del Giarre Cutuli ancora sul pallone Scodella con il destro liscia la sfera in contratepo Daniele Costa poi San Filippo però è costretto a rifugiarsi in fallo laterale per evitare guai rimessa per il Relaci il tocco adesso parte di Scalia va a terra si rialza tutto regolare dice l'arbitro e riparte attenzione il contratepo del Giarre San Filippo stoppato però nel momento migliore della ripartenza quindi Miano va ad accompagnare la sfera che carambola sul fondo c'è un cambio probabilmente vediamo adesso se sarà il Relaci ad effettuarlo eh sì Alidu pronto all'ingresso in campo è uscito il numero 4 Dario Patanè vediamo quale vediamo quale posizione andrà a occupare adesso il nuovo entrato Alidu si sta giocando del tutto per tutto ma la guernera va a battere colonna colonna parla adesso per Drammè a spazio sarà da vedere con Curcuruto Drammè lo fronteggia preferisce il lancio in diagonale ma Costa che di fatto in questo secondo tempo non si è assolutamente visto ma in effetti è su di lui che il Relaci faceva affidamento attenzione proprio a questo pallone per Costa fronteggiato Damiano interviene San Filippo scusate interviene Marrone poi indietro Messina e lancio lungo controlla Carbonaro non dei migliori molto scivoloso il fondo campo oggi Leotta apre cambia gioco a sinistra dove c'è il compagno parte il cross incredibile altra opportunità per il Giarre di raddoppiare con il pallone di prima intenzione crossato da compagno è intervenuto Messina è alzato troppo la mira opportunità che sfuma 34 quindi 11 più recupero alla termine 1-0 Giarre si cambia pallone non va bene quello che c'era che ha fatto ingresso subito dopo questa azione da parte di compagno adesso Mammone scaraventa in falo laterale sale nuovamente il Giarre ci crede può mettere in cassaforte questa partita Leotta con molta calma lascerà l'incarico a Curcuruto di battere non ha fretta a questo punto la squadra gialloblui vantaggio per 1-0 con Carbonara adesso lo scambio ancora una volta con Leotta arriva dalle retrovie la mia poi c'è un cross ma c'è probabilmente una posizione regolare subito battuta la rivesta giocata della Laci ma c'è da ribattere dice Testaì eccesso di precisione probabilmente abbattuto con il pallone non piazzato proprio sulla linea l'invio sbagliato ma al destro da parte della Ralla ci regala una rimessa da Giarre con il numero 3 che è San Filippo quindi Miano poi da Rigo Curcuruto lo scambio con Marrone Piatto destro di Marrone troppo lungo arriva Cartillo Mammone quindi tra me il controllo forse il pallone è finito fuori l'arbitro però dice che tutto regolare si può continuare a giocare da Rigo dietro per Miano deve fare molta attenzione lo scambio con Colonna c'è Daniele Costa lì in Aguato con le ultimissime energie ma stiamo vedendo un Costa davvero molto stanco mai pervenuto in questo secondo tempo San Filippo rischiato qualcosa qui di perdere il giarre il pallone marrone poi la mia irriconoscibile la sua maglia Scalia finisce giù fra la terra calcio di pulizione per il Realaci eccolo il secondo cambio va dentro al trentasettesimo dunque a otto dal termine esce fino a chiaro vediamo chi entrerà in campo e allora entra in campo Mattia Lucchesi altro 98 posto di 1-2mila ma del resto non ha molte alternative in altezza del mercato questo Realaci squadra più giovane della categoria contatti 98-99 e 2mila in campo e una panchina interamente composta da under attenzione a questo calcio di pulizione con il pallone sta per spiovere nel rinale di rigore saltano i difensori del Giarre che provano a liberare adesso con compagno riparte la formazione giallo-blu Messina Messina avanza palo al piede a spazio Messina Messina controlla Gorilla sinistro quasi sul linea di fondo battiene il possesso il pallone e quella traversone la girata e poi incredibile con opportunità Carbonaro Leotta non riescono a correggere in rete Carbonaro ha fatto una sorta di velo per Leotta che però a quel punto non è riuscito ad arvionare il pallone allora azione che sfuma rimessa dunque dal fondo di Cardillo quanta opportunità oggi per il Giarre soprattutto nel secondo tempo solo un gol però e allora suspense finale perché di minuti ne mancano sei più recupero Drammesh con grande personalità palla al piede lo scambio con Alidou Drammesh riceve ancora una volta il pallone dopo lo scambio con il numero sette che è Cutuli comunque gioco fermo perché uno giocatore del Giarre ha subito fallo è finito a terra e sarà calcio di punizione per la formazione giallobru che guadagna secondi preziosissimi Patane D'Arrico poi Curcuruto stop da parte di Carbonaro perde il pallone quindi Marrone Marrone dopo aver ricevuto da San Filippo chiude il triangolo San Filippo per Messina 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 avanza palla al piede ancora si crea lo spazio Messina salta tra avversari poi finisce giù tutto regolare dice l'arbit c'è la conclusione della mia è gol grandissimo esterno destro di Claudio la mia ed è 2 a 0 per il Giarre al quarantesimo minuto 2 a 0 dunque con l'azione che è partita dalla catena di sinistra attraverso uno scambio marrone San Filippo poi San Filippo ha prolungato in verticale per Messina cross al centro dell'area di rigore e pallone per la mia che dopo un tentativo di raspinta da parte dei difensori delle Realaci ha battuto di esterno destro all'angolo basso lì dove Cardillo non poteva arrivare ed è 2 a 0 e così si completa la domenica la prima domenica di dicembre la tredicesima giornata per il Giarre che mette in cassaforte questi tre punti e a questo punto possiamo dirlo il rompe in zona playoff il Giarre è tra le prime 5 o 6 di questo campionato il pallone adesso per Miano lo scambio con San Filippo a questo punto non resta altro che amministrare il gioco prima o poi il Realaci naturalmente sapeva che con una con un catenaccio dobbiamo dire che nel primo tempo era stato gestito con ordine nella fase difensiva poi nel secondo tempo era diventato un vero e proprio catenaccio allora quando poi naturalmente il Giarre ha forzato i tempi perché a quel punto c'era necessità di sbloccare il risultato di rimanere costantemente in avanti e comunque naturalmente il Realaci era consapevole che questo catenaccio non avrebbe poi pagato così tanto la mia l'autore del gol sul pallone Carbonaro lo stop continua a non passare comunque ciò che è più importante per il Giarre è il gol suo che ha sbloccato il risultato e che poi ha messo molta più serenità sicuramente ai geloblu di Peppe Mascara che con questi tre punti ottengono sette punti in tre gare in perfetta media inglese con anzi più che media inglese dobbiamo dire la seconda vittoria consecutiva perché dopo il pareggio positivo da cogliere positivamente per quanto avvenuto in campo con il Lassantagata poi c'è stata la vittoria con il Ragusa e adesso questa con il Realaci certo squadre di bassa classifica però sono sicuramente le più difficili da affrontare adesso c'è il controllo da parte di Drammè indietro tentativo di lancio per Cutuli il controllo da parte di Miano Miano poi esce con grandissima personalità palla al piede ha fatto valere la sua tecnica in questa circostanza non solo ma di fatto per l'intera partita almeno per quelle volte in cui il Giarre in difesa è stato impegnato rare volte comunque aggiungiamo noi Marrone dietro per Miano D'Arrigo Marrone Marrone ancora Miano avanza ancora per lui spazio fino alla linea di centrocampio centrocampo lo scambio con Messina quindi Marrone non vuole rischiare tocca indietro per San Filippo 43 al cronometro del nostro cronometro ma anche al cronometro dell'arbitro la testa di dunque ciò significa che mancano due minuti più recupero sbaglia adesso un passaggio al centrocampo il Giarre mette in momento il relaci ma c'è Curcuruto il capitano che ha preso in consegna la fascia dopo l'uscita di Patanè Miano ancora Miano per D'Arrigo Curcuruto gioca sul velluto a questo punto della giarra Marrone la mia può distendersi sulla destra troppo lungo il pallone recuperato comunque D'Aleotta poi ci prova ancora una volta il Giarre avanza Curcuruto il possesso di palla comunque per la formazione in maglia bianca con Mammone sbaglia poi tra me rimessa ancora il giallo blu uno più recupero la la mia poi indietro compagno quindi marrone ancora compagno San Filippo tocco di Miano ancora marrone è stata una marcia in più da quando è entrato al posto di Carrabile evidentemente cambia azzeccato da parte di Peppe Mascara Leotta attenzione al limite compagno palo di compagno poi prova a rimettere in mezzo colpo di testa e traversa e meno male che non si era sullo 0-0 ma attenzione insiste ancora Leotta alle stelle e allora prima un palo di compagno poi una traversa se non abbiamo visto male di Lamia che non è riuscito a bissare il gol precedentemente segnato allora un palo e una traversa e ripetiamo meno male che non si era sullo 0-0 perché sarebbe stato veramente imprecare contro la sfortuna per una settimana intera per questa doppia opportunità non è andata a segno comunque 45 minuti vediamo se ci sarà c'è l'indicazione dell'arbitro almeno ci dovrebbe essere del recupero due palloni in campo comunque tre minuti di recupero a partire da questo momento allora Colcuto appoggia indietro colonna pallone ancora per Curcuruto dopo il velo da parte di D'Arrigo Marrone Miano San Filippo gioca centralmente il giarre sbaglia Alidù quindi Scalia il cross San Filippo fa rimbalzare a piedi uniti la sfera su di lui prova a rilanciare il rilanci sta tentando di chiudere in avanti rendere meno amara questa sconfitta che comunque ci sta tutto poi il colpo di testa impeccabile da parte di D'Arrigo tra me sale Mammone Mammone si propone il numero due forse va a subire e fallo così non è duello tra i numeri due esce con grandissima personalità e fa valere tutta la sua esperienza Alessandro Curcuruto Curcuruto poi si accentra per compagno lascia l'incarico a Messina di accentrarsi attenzione prova la mia a sfotare il destro invece apre preferisce l'apertura per Mattia Leotta Mattia Leotta 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 la finta sinistro debole e pallone bloccato a terra da Cardillo finale palpitante nonostante il risultato sia abbondantemente acquisito uno al termine siamo due minuti oltre l'extra time Miano riparte il Giarre eppure Accademia adesso D'Arrigo Curcuruto Miano si gira vede D'Arrigo non c'è più tempo dice testa I finale alla regionale il Giarre con due reti nella ripresa ma con tanta sofferenza piega la resistenza delle Realaci ricordiamo le reti Nino Carbonaro al quarto d'ora e al trentacinquesimo anzi al trentanovesimo il raddoppio di la mia e allora Giarre che rompe in zona playoff dopo tredici giornate a meno due dal giro di boa di questo girone B di eccellenza amici di sesta rete grazie da Giuseppe Signorino e Barbara Catania per essere state alla visione all'ascolto in sesta rete ionica di questa sfida interna del Giarre che batte due a zero il Realaci amici sportivi appuntamento fra due settimane con Giarre Catania e San Pio decimo Star Janaro di Pile la 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 se la se ass Grazie a tutti. Grazie a tutti.